Ed eccoci amici di Eurofestival News, siamo ancora qui anche quest'anno per commentare l'Eurovision Song Contest 2013. Mettiamo subito un like sulla edizione di quest'anno in cui arriviamo caldissimi con l'Italia pronta anche quest'anno a fare la nostra grande figura. Sì, con un grande pezzo di Marco Mengoni perché mentre il mondo va in frantumi c'è il suo essenziale e noi facciamo il tipo per lui prima che per tutto il Song Contest che anche quest'anno sarà commentato da Filippo Solvello, Marco Redemagni e Natascia Lusenti. E quest'anno non dall'Azerbaijano come l'anno scorso ma ovviamente dalla Svezia grazie alla vittoria della magica Lorin. Mitica! E allora amici di Eurofestival News, se voi siete pronti noi siamo già caldissimi, Mengoni è sui blocchi di partenza. Marco! 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 Non ci deludere, siamo tutti con te, tutti su Rai2 a vedere l'Eurovision Song Contest. Quando? Quando Filippo? È il 18 maggio ovviamente, sabato sera in prima serata alle 21 su Rai2. Viva l'Europa, viva Eurofestival News, viva l'Eurovision Song Contest, viva Caterpillar AM! Ciao!